Ciao Io sono Marco No, no, no Lei è la presentatrice No, no, lei è la presentatrice Io sono l'assistente Marco Bündi ha visto un programma che si chiama, come si chiama? You You got money You got money You got money Quindi Mi dai che ho accorato Chiara che haiendo? Qua è un programma dei nostri interventi Quindi abbiamo prodotto per i gruppi per cui c'è un primo gruppo che è quello del Canto e poi questa è la Camina Alcala Camina Canzio E poi Eri che fai già fatto! Ero un po' di Gesù! Eee eee eee! Eccolo lì! Ollo a tutti! Ecco! Ho un cellulo che tu puoi! L'abbè chiamato il mio franzo? L'abbè chiamato? Allora, poi ne stiamo facendo un po' di profonda. Ma d'è volo? Grazie.